Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a una nuova intervista del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Michele Tossani, ciao Mich. Ciao Gab, ciao Charlie, un saluto a tutti. E ciao Sonuapa, ciao Charlie. Ciao Gab, ciao a tutti, benito vati. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Alberico Evani, ex vice allenatore della Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini con cui ha vinto l'Europeo nel 2021, ex allenatore dell'Italia Under 21, Under 20, Under 19 e Under 18, ex allenatore delle giovanili del Milan e prima ancora ovviamente il mister ha avuto una grandissima carriera da giocatore, giocando soprattutto nel Milan e nella Sampdoria. Buonasera mister, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Allora, spesso le nazionali non hanno uno stile di gioco particolarmente riconoscibile, ovviamente per via della mancanza di tempo per implementarlo. Invece la vostra nazionale che ha vinto l'Europeo lo aveva come? E si può dire che, tra virgolette, giocavate come un club. Come siete riusciti ad implementare quei principi di gioco con così poco tempo a disposizione? Beh, come detto, fare l'allenatore nazionale è molto complicato proprio perché per la mancanza di tempo. Allora proprio per questo problema devi scegliere dei giocatori già funzionali alla tua idea di gioco e soprattutto scegliere coloro che anche come personalità, come comportamenti, come atteggiamento e come attaccamento riconosce questi valori. Devo dire che non abbiamo fatto tanta fatica. C'era proprio uno spirito di gruppo, c'era un'amicizia che partiva soprattutto dallo staff, che eravamo tutti ex giocatori, diciamo, della Sampdoria, per cui ci legava, oltre che il lavoro, c'era anche un affetto che partiva da lontano e questo rapporto si è trasferito in automatico al gruppo squadra. C'era una gara a chi dava di più e questa unione ha fatto sì che diventassimo i migliori, ma non eravamo i più bravi. Lo siamo diventati proprio per questo spirito che c'era all'interno del gruppo. Mister, sempre a proposito dell'europeo, legando poi dai mondiali di USA 94 fino a questo europeo del 2020-2021, come avete deciso i rigoristi e l'ordine dei rigoristi nella finale con l'Inghilterra? In generale, come si scelgono i rigoristi? Perché c'è chi dice che deve tirare chi se la sente, c'è chi dice che è l'allenatore che deve decidere, però tirarli in una finale all'ultimo momento non è come tirarli in allenamento. No, no, lì c'è una pressione diversa, però già in allenamento ci allenavamo per questa evenienza. E quindi diciamo che quelli reputati migliori per freddezza, per tecnica, già li avevi nella testa selezionati. Poi dopo l'ordine lo scelgono i giocatori, magari c'è chi preferisce essere l'ultimo, chi il terzo, chi il primo e soprattutto poi c'è anche chi magari arriva e non se la sente, ci può essere anche quello. Allora è sempre preferibile uno che ha la convinzione di tirarlo, poi lo possono sbagliare, lo sbaglia solo chi lo tira e quelli che non lo tirano non lo sbagliano mai. Ma non c'è quindi un ordine di scuderia tipo l'allenatore che dice il migliore deve tirare il primo, il quarto, il terzo, il quinto? Sì, sì, viene già pensata prima una cosa del genere, però poi nel momento puoi aver fatto delle sostituzioni, puoi arrivare alla fine che quelli che te pensavi che potessero essere i rigoristi magari non sono in campo, chi si è infortunato. Quindi devi per forza di cose chiedere ai tuoi giocatori, chi se la sente. Come funziona la fase di monitoraggio dei giocatori che poi vengono convocati in nazionale, sia per quanto riguarda la nazionale maggiore che ovviamente gli under? Beh, abbiamo molti osservatori che partono proprio dai settori giovanili, tutte le categorie sono coperte in tutte le regioni da osservatori e poi ogni squadra, ogni allenatore già dal settore giovanile li va a vedere direttamente anche lui e poi vengono convocati. Poi per quanto riguarda la nazionale A diciamo che c'è un parco giocatori che è ben conosciuto e tutti ogni domenica si distribuiscono per le partite più importanti, per vedere il comportamento, il grado di forma di ogni giocatore. Poi nel momento che te intuisci che ci possa essere anche qualche giocatore interessante che ancora non fa parte della squadra, comunque viene segnalato, viene fatta una relazione, viene mandata al mister che poi come sempre deciderà. È interessante ora che hai menzionato il fattore del comportamento, quali sono gli aspetti che cercate maggiormente di monitorare legati magari a come si prepara, come si reazione con i compagni? Cosa guardate maggiormente da questo punto di vista? Sì, quando sono diciamo più giovani guardiamo molto anche questo atteggiamento, il comportamento, l'educazione, il rispetto, il collegamento con i suoi compagni, come gioca, se gioca a tutto campo, se è un solista piuttosto che un altruista, sono tutte cose che vengono comunque valutate. Noi avevamo, si chiamava il TIPS, tecnica, intelligenza calcistica è molto importante, personalità, sprint e poi la struttura fisica. Questi cinque componenti devono essere più che sufficienti per poterlo collocare ad essere un giocatore internazionale. Chiesa è un giocatore che avete utilizzato in nazionale soprattutto per occupare l'ampiezza e giocare l'uno contro uno col terzi di un avversario, però a volte l'abbiamo visto agire anche più centralmente nel mezzo spazio. Secondo te dov'è che dà il meglio di sé? Personalmente io l'ho avuto anche nell'Under 20, credo che lui abbia di al meglio quando è posizionato sulla fascia dove può sprigionare e alla riga come tra virgolette amica per cui riesce ad attaccare sia linearmente che tagliando verso il campo. Noi sfruttavamo molto lui sull'ampiezza perché poi avevamo dall'altra parte Insigne che invece veniva a giocare tra le linee per poter lasciare la fascia al terzino che si alzava, mentre Chiesa doveva stare molto largo anche per un eventuale cambio gioco per poter andare sull'uno contro uno. Secondo te gioca mai a largo a destra o a sinistra? Credo che quello non sia un problema, perché comunque calcia bene con tutti e due i piedi, per cui può comunque centrarsi e andare al tiro. a destra forse riesce ad essere più per la squadra, a sinistra magari è più portato a convergere verso il centro e a concludere l'azione. Un altro giocatore fortissimo che hai allenato sia nelle Under che nella nazionale maggiore è Barella. Come lo hai visto crescere nel corso degli anni e in cosa credi sia maggiormente migliorato? Beh, lui si dice che è nato pronto, si dice, perché era già quando era già giovane il ragazzo, la prima esperienza che è andato, uscito dalla primavera del Cagliari è andata al Como, già si vedeva un giocatore pronto, con grande personalità tecnica, sapeva fare più ruoli, è un giocatore che fa le due fasi, è un giocatore moderno, tanto è vero che poi anno dopo anno ha accumulato esperienze, è migliorato anche perché comunque si lavora per migliorare, si può sempre fare di più e meglio sia nella vita che nel calcio e quindi lui ha sfruttato questo e adesso è uno dei migliori sicuramente in Europa. Mister, su un altro singolo protagonista dell'Europeo, Locatelli, perché anche su di lui c'è molto dibattito, secondo te è più un costruttore o un invasore? Secondo me, da come lo utilizzano un po' tutti, da come è stato utilizzato sempre, è più un costruttore, è uno che gli piace andare a prendere la palla anche tra i due centrali, a costruire l'azione dal basso, però anche quando con noi ha giocato Mezzala, ha fatto bene, si è proposto bene, è arrivato a fare anche dei gol, per cui ha anche dei tempi di inserimento, è un giocatore che magari ha meno potenza nelle gambe rispetto a Barella ha una cilindrata inferiore. Sempre a questo proposito, gli spazi da attaccare erano preordinati oppure lasciavate a lui l'interpretazione di capire dove doveva buttarsi? No, noi avevamo una mezzala di costruzione ed una di invasione, per cui sapevamo dove doveva attaccare, quindi chi era predisposto doveva trovarsi tra le linee, andare negli interspazi tra il centrocampo e la difesa in signe e una mezzala erano quelli che dovevano attaccare quegli spazi per poi buttarsi dentro. Passando all'uso dei dati, cosa ne pensi dell'uso dei dati e delle statistiche per analizzare le prestazioni della tua squadra e degli avversari? Beh, è un vantaggio, un vantaggio nel senso che conoscere sempre come giocano, le caratteristiche dei giocatori, vedere i loro punti di forza, vedere magari i loro punti deboli, trovare le contromisure, studiare le contromisure per limitare dove loro sono bravi e magari sfruttare invece dove sono più carenti. Questo comunque serve anche per vedere la tua squadra poi se ha fatto le cose nel modo migliore per poterle farle vedere ai giocatori e magari cercare di non ripetere certi errori eventuali. Quali dati guardavate di più? No, per quanto riguarda noi, anche quanto i dati della partita, ci interessava l'indice di pericolosità, non tanto il possesso della palla, perché poi fino a se stesso non serve a nulla, però noi avevamo delle... quasi sempre quando arrivi al tiro che hai delle azioni pericolose, che riesci a imporre il gioco, la partita, sei padrone del campo e del gioco, questo è fondamentale e questi dati se ti rimporta parecchie volte è importante, e soprattutto che non concedi poi grandi occasioni all'avversario. In quei report di cui parlavi prima che stilano gli osservatori per poi far decidere i convocati al mister, ci sono anche tanti dati e statistiche? No, no, quello viene fatta una relazione diciamo sulla partita, tanto su quanto corre o sui dati, magari quello è più un discorso tra preparatori si fanno mandare delle schede. Questi dati poi, quando magari fate, o facevate anzi le riunioni con la squadra, venivano anche un po' trasmessi comunque ai giocatori per far capire che il modo in cui stavano giocando alla fine stava funzionando, magari una situazione, penso per esempio a tante amichevoli o tante partite di qualificazione dove magari il punteggio era un po' in bilico, però comunque l'Italia era padrone della partita. Facevate anche un po' in modo di trasmettere questi messaggi quasi a sponare insomma ai ragazzi a continuare a battere sul percorso tattico su cui stavate lavorando, insistendo in quella partita magari? Sì, sì, perché comunque anche se tu non arrivi a volte succede che tu sei padrone della partita, hai la possibilità di vincerla, ma purtroppo il pallone rotonde tante volte non ci riesci, però far vedere questi dati che il gioco è stato positivo, che le occasioni sono state tante, è chiaro ci sono stati degli errori, perché se non fai gol gli errori ci saranno stati, però convincere che quella era la strada giusta per poter proseguire e loro si erano convinti che quella era la strada e quindi come ho detto prima ci davano dentro e si impegnavano sempre di più. Qualche mese dopo è successo l'Europa, purtroppo è arrivata la mancata qualificazione mondiale, si è detto tanto, si è detto di tutto, immagino avete fatto le vostre valutazioni come staff, avrei fatto le tue valutazioni come un attore. Secondo te cosa è andato storto in quel periodo? Che dopo, come qualche volta può succedere, che dopo una vittoria così importante magari c'è un momento di rilassamento e quella forza che ho detto prima, quella forza di unione, di spirito di sacrificio è venuta meno e quando viene meno quella può succedere come è successo a noi che viene meno anche la fortuna perché ricordiamoci che abbiamo fatto un bel europeo comunque un pochino di fortuna abbiamo avuto perché altrimenti non lo vincevi con semifinale e finale ai rigori. Questi rigori che poi per le qualificazioni mondiali invece ci hanno chiesto indietro più del dovuto perché ne abbiamo sbagliati due con la Svizzera in due partite diverse e non ci hanno permesso di qualificarci però credo che la fortuna a uno se la se la vada a conquistare ecco noi lì avevamo non eravamo più gli stessi probabilmente qualcosa abbiamo sbagliato. Ti faccio una domanda un po' strana quando alleni una nazionale giovanile qual è l'obiettivo? Cioè far crescere i giovani giocatori vincere i tornei un mix di queste due cose? Ma guarda prima nell'introduzione hai detto più o meno la mia breve carriera da da allenatore quindi hai visto che la maggior parte degli anni l'ho fatti con i giovani col settore giovanile io ho sempre allenato per cercare di far crescere i giocatori non ho mai fatto non ho mai utilizzato un giocatore per apparire bravo io ho sempre cercato di aiutarli nella loro crescita sia tecnica tattica ma anche proprio l'atteggiamento di come si vive in un gruppo e quindi quando poi per fortuna qualcuno di quelli che ho allenato è arrivato anche in serie A in nazionale qualcuno l'ho ritrovato anche in nazionale è stato come se ci arrivassi io per la seconda volta in serie A o in nazionale ecco questa è una soddisfazione per un allenatore che lavora in un settore giovanile è quasi una missione per uno che fa settore giovanile per cui la risposta è questa anche quando ho fatto è chiaro che il risultato conta molto perché comunque ti dà voglia di lavorare ancora di più ancora di meglio però è importante essere d'aiuto a loro per farli diventare poi un domani non tutti perché purtroppo non potranno diventarlo tutti però chi ha talento aiutarlo a tirarlo fuori Tu hai partecipato a grandi eventi con la nazionale da giocatore e da allenatore ti volevo chiedere quanto è importante il contributo delle riserve nel tenere alto anche lo spirito di gruppo c'è qualche giocatore che ti ha colpito in questo di cui magari ci puoi parlare? Ma io non le chiamerei riserve perché sono tutti tutti importanti in una squadra perché per vari motivi perché uno è fuori forma perché uno si fa male comunque tu devi per forza andare a far giocare qualche di un altro e tu li devi trattare bene perché avrai sicuramente bisogno di loro è importante che loro anche chiunque non piace a nessuno stare fuori però anche quando sono fuori è giusto essere arrabbiati ma mai andare sopra le righe oppure contestare quelle che sono delle scelte perché il allenatore purtroppo deve fare delle scelte ma perché più di 11 non ne può far giocare perché sicuramente quando li allena per noi era un dispiacere lasciare fuori qualcuno addirittura facevamo lo assicuro delle riunioni la sera perché dovevamo lasciare fuori dalla panchina qualcuno e ci stavamo ore e ore e ore a capire perché questo perché quest'altro perché sapevamo che comunque facevamo un torto a qualcuno perché non lo non l'avrebbe meritato nessuno però è così ma loro capivano perché poi la volta dopo non erano mai gli stessi perché sappiamo benissimo che che c'è bisogno sempre di tutti mister tornando indietro durante i mondiali del del 94 quale fu il rapporto che è stato raccontato in maniera diversa le parti il rapporto con Sacchi se davvero influì così tanto la questione la questione climatica e soprattutto se secondo te si poteva fare qualcosa di più cioè vincere perché io me lo ricordo mettevo la sveglia per vedere le partite mi alzavo però mi ricordo che quando la squadra tornò sembrava una tragedia nazionale se fossero arrivati i secondi dietro un Brasile comunque davanti c'era Bebeto e Romario cioè non due scappate di casa ecco no il rapporto era buono cioè parte noi del Milan per cui lo conoscevamo come le nostre tasche sapevamo che lui era esigente con gli altri ma esigente con se stesso per cui c'era molto da dare non con lui dovevi andare sempre sempre al massimo purtroppo come detto in America c'erano delle temperature impossibili per sostenere certo un certo lavoro fisico e tant'è vero che soprattutto all'inizio abbiamo molto faticato abbiamo molto faticato siamo partiti con una sconfitta poi una vittoria in 10 contro 11 anche quella di grande sacrificio poi abbiamo pareggiato siamo passati proprio diciamo per per fortuna ma poi partita dopo partita la squadra migliorava trovava più 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 coraggio e niente siamo arrivati fino alla fine meritatamente contro un Brasile che nella partita stessa non c'è stato superiore diciamo siamo stati in una partita equilibrata dove era giusto il pareggio poi sappiamo benissimo che i rigori sono una lotteria a noi purtroppo quella volta lì è andata male ma io tante volte ci ripenso ci ripenso perché sarebbe stato diciamo il massimo per me dopo aver vinto tanto quello sarebbe stato non solo per me per tutti la ciliegina sulla torta però per uno che diciamo che guarda da sportivo e io penso che mi piacerebbe che nella vita nello sport nel calcio vincesse sempre chi lo merita di più e diciamo che in quel mondiale nonostante la partita fosse stata equilibrata diciamo che il percorso mondiale il Brasile aveva fatto qualcosina più di noi allora lì si attenua anche il dispiacere ecco non sono uno che riguarda nelle mie partite non sono una anzi tante volte quando rivedo qualcosa mi da quasi non mi fa così così bene ecco per cui non non mi è mai ricapitato magari vedi una televisione che prima di un evento li fa rivedere allora tocca guardare ma io di proposito non la riguarderò mai senti mister però visto appunto che me la ricordo abbastanza abbastanza bene ero ragazzo una domanda te la devo fare ma quando Baggio uscì contro la Norvegia e poi ebbe ragione io sono un sacchiano ebbe ragione sacchi poi la partita si vinse ma lì davvero si ruppe qualcosa nel rapporto con sacchi cioè poi disse qualcosa nello spogliatoio continuò a lamentarsi che era stato sostituito oppure finì tutto lì ma sai quando sei un giocatore soprattutto del suo calibro della sua bravura quando ti ti senti sostituito anche in una partita difficile perché comunque eravamo 0 a 0 10 contro 11 dopo aver perso la prima partita lì sei quasi fuori un allenatore deve fare delle scelte io credo che che poi l'abbia capito anche Roberto nel tempo perché comunque sarebbe stata una partita troppo di sacrificio per un giocatore di qualità come era lui serviva più qualcuno più battagliero tra virgolette ma non è una scelta tecnica perché di Roberto non si discute nulla e credo che poi lì per lì ci è rimasto malissimo chiaramente ma poi l'abbia capito anche lui che forse ha fatto la scelta giusta ma al di là del risultato che poi è stato positivo veniamo ad una delle grandissime vittorie della tua carriera cioè la Coppa Intercontinentale del 1990 giocata sia a Tokyo e vinta dal Milan contro l'Atletico Nazionale di Medellin con una tua rete ci racconti un po' quella partita l'emozione di segnare quel gol sì anche lì è una partita molto tattica due strateghi della panchina squadre molto corte spazi ristretti una partita nervosa poco poco bella ecco diciamolo però per gli studiosi di calcio forse c'era qualche spunto da andare a prendere perché si scontravano due due talenti della panchina e poi c'erano in campo parecchi giocatori di grande qualità e niente partita anche lì molto molto equilibrata molto nervosa poche occasioni sia da una parte che dall'altra tempi supplementari al 119esimo fallo su Van Basten punizione dal centro-sinistra dal centro-sinistra che di solito lì è più probabile che batta un destro infatti c'era Donadoni sulla palla io e Donadoni eravamo sempre quelli che sulle punizioni eravamo gli incaricati diciamo e e quindi Roberto magari era già a pensare come poterla battere però guardando la barriera guardando il posizionamento del portiere avevo visto che forse con un tiro a giro poteva avrebbe potuto passare la palla e niente ho anticipato soprattutto prima del portiere ho anticipato Donadoni perché se gli avessi chiesto Roby batto io non me l'avrebbe fatta tirare e allora anticipando lui ho anticipato anche il portiere e quindi l'ho colto impreparato e per fortuna è andata bene perché altrimenti le parolacce le avrei prese tutte da Roberto senti mister di Sacchi un po' hai già parlato volevo chiederti due cose sempre sulla tua carriera da giocatore e anche da allenatore allora primo se ti fa un po' sorridere il fatto che ora vedendo tipo la Stoneville il Barcellona che fanno questa linea altissima fuori gioco altissimo quando voi lo facevate anche se le regole erano diverse le regole erano diverse però questo fuori gioco esasperato già lo facevate col Milan di Sacchi quindi le cose si rinnovano ma non si butta mai via nulla e poi visto che purtroppo è scomparso da poco se ci dai un ricordo della tua esperienza con Ericsson sì sì ho visto il Barcellona e fa una linea veramente molto anche rischiosa perché come detto le regole sono cambiate adesso basta poco per andare ti vanno in porta ai nostri tempi invece era sufficiente mettere in fuori gioco uno o due due giocatori e quindi il gioco era fatto qui è molto più complicato però hanno molto coraggio si vede che ci lavorano tanto perché sono molto sincronizzati molto ordinati ed è bello anche vederlo comunque è spettacolare vedere queste queste linee difensive senza senza paura venire su invece mister Ericsson è un dispiacere che che ci abbia lasciato proprio qualche mese fa prima della che lui morisse abbiamo fatto un bel evento a Genova la Sampdoria gli ha dedicato una giornata era il minimo che potesse fare perché veramente al di là dell'allenatore che è stato anche lui uno dei primi innovatori a portare delle idee era veramente un signore un giocatore con lui era stava stava benissimo un rispetto una da veramente da lord al di là della bravura come tecnico mi dispiace proprio che se ne sia dato una grande persona e questo sport ne avrebbe avuto tanto bisogno in queste figure senti tornando invece ad altre ad altre cose più leggere una curiosità come era giocare nel nel Milan dei tre olandesi e con i tre olandesi peraltro per me personalmente il più forte è sempre rimasto Gullit più di Van Basten però un parere personale ma sai si parla di tre olandesi però poi se andiamo a vedere il primo anno quando era arrivato Gullit e Van Basten praticamente Van Basten ha saltato quasi tutta la stagione per cui c'era solo Gullit con dieci italiani più tutto il resto perché comunque ci si alternava però io credo che la forza sia stato il gioco il gioco che mister Sacchi è riuscito con difficoltà iniziale ma poi quando l'abbiamo appreso abbiamo cominciato a giocare non dico a memoria ma comunque abbastanza sincronizzati ha permesso a tutti noi di migliorare le caratteristiche sembravamo tutti tutti più bravi perché era il gioco che esaltava le nostre caratteristiche l'anno dopo è arrivato anche Frank Reichard e però si è fatto male Gullit e Frank ha dato quella forza quella era partito difensore centrale per poi dopo diventare centrocampista e ha portato esperienze a qualità e una diga lui e Carletto davanti alla difesa erano difficili da superare faccio una domanda di attualità tattica legato anche al modo di difendere oggi in Serie A spesso vediamo squadre che adottano questa pressione uomo contro uomo a tutto campo mi vengono in mente Gasperini italiano Juric vediamo anche altri attori che lo fanno magari in maniera un po' più attuata in base anche alla situazione della partita penso a Thiago Motta in Zaghi Conte per esempio contro l'Inter domenica ci sono meno attori che fanno magari una difesa più a zona pura come Sacchi forse Fonseca solo in questo momento in Serie A a breve tornerà anche Gianpaolo che è stato uno di allenatori che più ha diffuso questo modo di difendere secondo te perché è così in ascesa la marcatura uomo a tutto campo più che la marcatura sì tu hai detto Gasperini Juric fanno questo non hanno neanche codificato certe scalate loro il più vicino va sempre sempre in pressione sul portatore di palla mentre noi per dire anche noi facciamo pressing era un pressing più più organizzato che a seconda della zona ci andava il giocatore responsabile di quella zona qui invece si vede che non so il terzino destro magari te lo trovi a sinistra perché corre dietro all'avversario non lo molla per un po' però comunque è un calcio sempre più internazionale anche perché se non lo fai lo subisci e quando lo subisci vai in difficoltà per cui non è un caso che l'Atalanta quando riesce quando sta bene è difficile giocargli giocargli contro perché veramente ti ti vengono addosso in qualsiasi momento mister ti faccio un'ultima domanda la tua prossima squadra che principi avrà cioè tu preferiresti avere una squadra che pressa sull'uomo che è orientata sulla palla o in attacco attacca posizionalmente oppure cercherà più la relazione fra i giocatori cioè qual è ad oggi il tuo pensiero calcistico quello che diciamo ho praticato e mi è stato poi insegnato anche quando ho avuto la fortuna che oltre ad avere gli insegnamenti da giocatore mister Sacchi era diventato anche il responsabile di tutte le nazionali insieme a Viscidi che è un bravissimo insegnante e continua ad esserlo Viscidi perché tutte le nostre nazionali non è un caso che stanno facendo molto bene per cui principio della zona giocare a zona sul riferimento palla compagni avversari e poi chiaramente con con pressando perché l'ho detto prima se non lo fai te lo subisci e quando lo subisci più delle volte perdo mister ti ringraziamo tantissimo per questa mezz'oretta che ci hai dedicato e in bocca al lupo per il futuro grazie grazie buona serata a voi buona serata mister grazie buona serata mister grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti